Torosa-Benfica termina 0 a 0 Un risultato forse inaspettato sia per il Torosa che per il Benfica ma questo è il risultato che effettivamente ballando si palesa in questa partita di Europa League di ieri 22 febbraio 2024 il Torosa pensate che ha un possesso di palla minore rispetto al Benfica i passaggi sono di meno rispetto al Benfica e la precisione dei passaggi risulta inferiore rispetto al Benfica diciamo quindi che il Benfica a livello statistico statisticamente parlando gioca meglio e quindi fa quel qualcosa in più che può effettivamente parlando aiutare seppure in questo caso non resta di aiuto infatti il risultato finale è un pareggio ossia 0 a 0 una partita statica non binaria una partita diciamo così forse un po' noiosa forse un po' stancante mi permetto di dire vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi insomma Torosa Benfica 0 a 0 un'ora di fatto iscrivetevi se viva commentate questa partita di Europa League di ieri ciao a tutti